Il loro accento non lasciava spazio a dubbi e neanche l'abbondanza dei loro piatti, tipica della nostra regione. Che si sa, in quanto a cibo, non può che eccellere. I vincitori di Bake Off Italia, dolci sotto un tetto, sono proprio pugliesi. Il bitontino Francesco Lucarelli e il barese Lino Rutigliano hanno infatti battuto tutti i concorrenti del programma condotto da Flavio Montrucchio e conquistato il titolo dei migliori pasticceri amatoriali d'Italia. Un cammino altalenante è quello della coppia dei conviventi che, con creatività, tecnica, ma anche simpatia e divertenti battibecchi, è riuscita ad entrare nel cuore del pubblico a casa e dei giudici del talent culinario di Real Time. Puntata dopo puntata, i due sono riusciti a convincere i palati esigenti di Ernest Knamm, Clelia Donofrio e Damiano Carrara. Sino all'ultimo dolce che ha fatto tuercare persino le papille gustative dell'ospite Elettra Lamborghini. Un risultato bello e ispirato. Io personalmente non credevo nella vittoria, anche perché considerando, soprattutto dopo la prima puntata... Sì, già dopo la prima puntata pensavamo subito di uscire. Poi per fortuna ci siamo un po' ambientati, anche tra noi abbiamo iniziato un po' a collaborare tra un visticcio e l'altro. E diciamo che siamo man mano, ogni puntata abbiamo fatto qualche miglioramento fino ad arrivare alla inaspettata vittoria. L'idea di partecipare al programma è nata proprio da Lino. Ho deciso io di partecipare al Bake Off e quando mi sono iscritto ai provini inizialmente volevo partecipare da solo. Poi ho visto che c'era l'opportunità di partecipare in coppia e ho pensato subito di portare con me Francesco. Devo dire che hai fatto un'ottima scelta. No. Le loro personalità, così diverse, Lino è infatti un rigoroso architetto, Francesco un estroso coreografo, sono stati forse la chiave vincente della loro unione in cucina. Secondo me anche la nostra accoppiata è piaciuta, nel senso che comunque siamo veramente un po' due poli opposti io e Lino, nel senso che io penso più a giocare, a ridere, a scherzare, a prendere le cose con forse a volte un po' troppa leggerezza. Lui invece nel suo... È rigoroso. Sì, è rigoroso, porta a termine l'obiettivo, al massimo delle possibilità. Quindi io un po' ansioso per lui, smorza quest'ansia e tiene un po'... Si saranno affezionati un po' a noi, persone pure. Il futuro dei due ragazzi sarà ancora fra i fornelli e parlerà ancora tanto pugliese. Dopo questa vittoria inaspettata, abbiamo pensato di far cosa? Di aprire un fantastico canale YouTube. Il nostro canale si chiama, però appunto, Cime di Rapa. A simboleggiare appunto il fatto che siamo due cime. Due cime, ma... Non sappiamo di che, però comunque legati alla nostra terra. Proporremo delle nostre idee, ma soprattutto se c'è richiesta dal pubblico, se vuole vedere qualche preparazione in particolare, saremo pronti pure a realizzarle per loro. Per scoprire le loro creazioni, basta seguire le pagine ufficiali di Lino e Francesco su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.